Secondo fonti inglesi, piuttosto attendibili, Roberto De Zerbi ha una clausola rescissoria o comunque un articolo del contratto con il Brighton per cui può essere liberato dietro pagamento di una somma di denaro, come era stato per Potter quando è passato al Chelsea. Calciomercato degli allenatori, un po' come si comprano i cartellini dei calciatori, si possono comprare anche le prestazioni dei tecnici. De Zerbi al Brighton ci è arrivato da poco e sta facendo cose fantastiche, facendo sognare il piccolo club che non ha grande storia internazionale e direi neanche a livello locale, a livello domestico, ma che in questo momento è davvero una delle migliori squadre del campionato. Ed anche una delle migliori squadre d'Europa, il Brighton di De Zerbi, dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della qualità delle prestazioni. Viene da dire, tutti vorrebbero De Zerbi ed infatti, secondo le stesse fonti inglesi, oltre a questa clausola di circa 10, 12, 13 milioni di euro per liberare l'allenatore, c'è la fila, c'è sostanzialmente quasi un'asta di vari club. Non è assolutamente detto che De Zerbi lascerà così presto il Brighton, appunto c'è appena arrivato, il contratto è ancora lungo, ma si fa leva su alcune sue lamentele sul calciomercato invernale per inserire delle indiscrezioni relative al suo possibile addio. Che è ancora tutto da vedere, ha ancora tutto da dimostrare, ma nella fila di club interessati a De Zerbi ci sarebbe anche la Juventus. Forse nelle retrovie, forse con le argomentazioni meno importanti per convincere il tecnico italiano, ma comunque c'è anche la Juventus. E con l'oscurantismo che c'è relativamente alla posizione di Allegri alla Juve, sentir parlare di De Zerbi come possibile sostituto in caso di divorzio con Max è già una notizia importante. E si parla di De Zerbi come un allenatore contenutistico, un allenatore giochista, che privilegia i giovani, che lavora con i giovani e per questo potrebbe essere il profilo adatto, il profilo ideale per una nuova Juventus. Ma davvero esisterà una Juventus con queste caratteristiche? Una Juve che voglia giocare bene a calcio, che voglia puntare sui giovani, che voglia valorizzare i talenti, rinunciando alla vittoria annuale di qualche trofeo, perché se no, se non vinci niente sei un fallito? La mentalità della Juventus, dei tifosi, ma anche dei dirigenti fino a questo momento, e direi anche dei calciatori, è sempre stata molto diversa. Ogni anno si deve portare a casa almeno un trofeo, fosse anche la Coppa Italia, altrimenti non si è fatto nulla. Di contro, se si vince lo scudetto e si va anche avanti in Europa, ma non si è costruito per il futuro, va bene lo stesso. Forse la crisi di liquidità del club porta a dover rivedere queste strategie, non si può continuare a comprare qualsiasi giocatore a cifre esorbitanti, e quindi tra make and buy bisogna scegliere make. E con il De Zerbi del Brighton, dopo l'esperienza anche allo Shakhtar e tutto quello che aveva fatto già in Italia facendosi apprezzare, anche quando era ancora al sassuolo, il make sarebbe veramente possibile. Scenari ancora tutti da scoprire, ancora tutti da scrivere, dal mio punto di vista è molto difficile che sarà De Zerbi, il nuovo allenatore della Juventus. Sia perché al momento Allegri è ancora saldo in panchina, sia perché ha ancora tutto da vedere che appunto la Juve voglia fare questo passo giochista e giovanile, sia perché se c'è la fila per De Zerbi, beh, non credo che lui abbia interesse a venire proprio alla Juve. Ha ampie alternative di club con qualità, caratteristiche e situazioni decisamente migliori di com'è la Juve ora. Ma questo non ci impedisce di sperare che la prossima Juve possa essere proprio una Juve targata De Zerbi.